Va bene quindi Lamantino Ciccio è al comando del campionato Come vedete Polonia e Svezia non l'abbiamo fatta perché nei Junior WRC non ci sono Va bene così, abbiamo vinto un bel po' di soldi, abbiamo livellato, abbiamo stralivellato Il rapporto con la Ford sta andando bene, il morale sta andando bene Ho preso un altro bonus, abbiamo livellato, il rapporto con la Ford sta andando sempre meglio Andiamo avanti così, va benissimo Va bene allora adesso abbiamo fatto tre livelli, quindi abbiamo tre punti abilità da spendere Che ovviamente andiamo subito a spendere, mi sa che switcheremo i meccanici perché ovviamente saranno un pochino stanchi Io penso che questo video lo chiuderò qui nel senso che io continuo a registrare ma sarà un terzo video Sì comunque i meccanici sono mezzi stanchi, adesso vediamo un pochettino Ci manca anche rispondere Oh che palle La madonna Ora che hai familiarità con il sistema delle email torna al quartier generale Sì ma la peppina Cosa sono tutti questi pessimi risultati Ma questi qua sono quelli del precedente Del precedente tizio, pessimi risultati, io non ho fatto pessimi risultati Spese di riparazione Eh paga, che ti devo dire? Io sono sempre a pagare, sempre a pagare Cioè se mi dimentico, ma perché parola in corsa? Di fare tutta la parte pre-primo rally come primo video e il primo rally quello di Croazia come secondo video Adesso stiamo andando avanti, siamo a maggio, abbiamo il riposo oppure la corsa avversario Anniversario, non avversario Ok, adesso mi torno un po' di più Con l'Audi 4 Io ci direi che ce la facciamo Poi vedremo settimana dopo cosa succede Sì, voglio fare la corsa anniversario Non ho modificato ancora la difficoltà perché voglio prima, nativino, prenderci la mano Allora ragazzi, siamo qui con il rally di Sanremo dell'81 Come vedete abbiamo l'Audi 4 E guidiamo, diciamo, il rally storico con appunto queste due Fabrizia Pons e Michel Mouton Va bene Allora, la difficoltà È che l'auto è nuova Nel senso che non l'ho mai guidata La pista è bastardissima Oh Eeeh, sti cazzi Ci sono qui anche tutti i tifosi Come gli anni 80, giusto che sia È bellissima sta cosa, l'hanno fatta veramente molto bene Però è veramente difficile Sta cosa qua Gli tifosi in mezzo alle bolle Con la strada così piccola Speriamo vada bene Uh, piano Uh Allora, destra 1 Mamma mia, quanto è cattiva sta macchina C'è un turbo che è cattivissimo sta macchina Proprio è uno dei primi turbo Che spingevano veramente così tanto nei rally E gruppo B erano dei mostri assurdi Poi tra l'altro le versioni degli anni successivi Delle 84, 85, 86 Oh, ho sbagliato marcia Sono diventate ancora più potenti Sinistra 5 Cioè, ha una cattiveria assurda sta macchina Mamma mia, quanto è stretta Eh, ho sbagliato a toccare il muro Ma pazienza Il muro va bene, il carrail Però va bene Destra piena Ok Sinistra 4 Ok, mi sto ancora abituando alla macchina Perché è completamente diversa, ovviamente, dalla fiesta E quindi non è facile non essere allenati con la... Sinistra 6 Chiude Sinistra 6 Chiude 400 Ok Ottimo Per ora Stiamo andando abbastanza bene Uh Sinistra 4 Chiude In sinistra Destra 2 Non tagliare Bene Merda Adesso siamo andati Nella stradina secondaria Madonna, quanto è piccola Ok, ora devo stare molto attento Ok No C'era un coso Non l'ho visto Maremma Non l'ho proprio visto No Peccato L'ho lasciata andare un po' più larga Perché pensavo ci fosse Il prato Invece c'era un coso Ma Porca Per fortuna non ci ho perso più di tanto Però Bene Ok Va bene Pure il tornante sinistro Minchia Quanta è cattiva Quanta è cattiva sui tornanti Sta macchina Però mi sa che abbiamo finito la parte Piccola Oh si Uh Si allarga leggermente Madonna Quanto era stretto E quella roccina lì Era veramente nascosta Era veramente nascosta Bastarda Non tagliata Non tagliare Non tagliare E destra 5 Attenzione Sinistra Destra 4 Taglia poco In tunnel Macchina parcheggiata Ok Fin qua ci siamo arrivati In destra 6 E destra 5 Corta In destra 5 Corta Qui è tutto veloce In destra 5 Corta Attenzione Frena Secca sinistra Taglia poco In piano Che i freni Non sono Moderni Infatti l'auto Non abbia Tutta questa potenza Di Frenata Va bene Benissimo Sto rischiando di non farcela Sapete Il vermelio è tolto Il suo evento Facciamo che la difficoltà Di alcuni eventi Non è propriamente bilanciata Al resto del gioco In destra 5 Frena In destra 3 Stringe E sinistra 3 In destra 3 E sinistra 3 Ora vediamo se ce la facciamo E di quanto ce la facciamo In destra 4 Stringe In destra 4 Ho sbagliato Perfetto Peccato per quell'errore In arrivo Dai Quanto dovevamo battere? 5-2 Forse ce l'abbiamo fatta Che mi pare fosse 5-5 Complimenti Hai completato l'obiettivo Sì Uh È stata tosta Peccato per quell'errore Ho tutte le volte Riesco a guidare forte Poi faccio un errore Scemo Che però È fatale Va bene È stato divertente Uh Che fatica Uh Voi non avete idea Ma sto sudando Come non so cosa Perché comunque siamo I primi di settembre Caldo fa caldo Io però ho dovuto Chiudere tutto Porta chiusa Finestra Aperta Ma C'è la tapparella giù Perché se no Fa troppa luce E non vedete più niente Quindi sto veramente Bollendo Sinceramente Allora Andiamo negli obiettivi Esegui almeno Tre eventi Allenamento In sei settimane Se me li proponete Li farò Anche se sono Tutti uguali Sti eventi allenamento Adesso abbiamo Riposo Allenamento Condizione estreme Da cinque stelline Ok Non so Quello di prima Aspettate un attimo Voglio andare a vedere Quello di prima Che per voi È dell'altra volta No volevo vedere Di quante stelline era Per capire Non me lo ricordavo Allora Vediamo un po' Formazione membri squadra Ci potrebbe stare Condizione estreme Cinque stelline Secondo me Non ci riusciamo Quindi Ti dà tanta ricompensa Però Secondo me Forse conviene Fare l'allenamento Come da obiettivo E lasciare un attimino Perdere le condizioni estreme E che le condizioni estreme Danno veramente Tanti 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 soldi Porca miseria Eh non lo so No dai Facciamoci un allenamento Facciamoci gli allenamenti Come ci hanno Ci hanno detto di fare L'allenamento Penso sia sempre lo stesso Quindi Direi che ve lo taglio Perché tanto È sempre lo stesso Da girare Me lo faccio io Per i fatti miei Vediamo Ah no È diverso È diverso Attenzione Finalmente si cambia un po' 3 2 Ok un minuto e due Dobbiamo battere Dai palla al piede Andiamo Perché se fosse sintonizzato ora Io mi chiamo Lamantino Ciccio E lui si chiama Palla al piede Il mio copilota Oh Adesso è stranissimo Vedere sta macchina Madonna E l'altra cosa difficile È che non ho Il copilota Che mi dice le curve Quindi devo capirle Io le curve Però è bella sta pista Bellissima Va bene Ok Ok Vai 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 Perfetto Piano Eh infatti Bastarda Proviamo a non derappare Che mi fa perdere un sacco di tempo La derappare Eh ho già finito Ho già preso oro Finiamocela qua Allora Potevo far tranquillamente sotto al minuto Ma va benissimo L'abbiamo completato L'abbiamo livellato Adesso poi vediamo dove spendere il punto abilità Però mi sta veramente piacendo tanto Perché graficamente è bello Il sistema di guida mi piace Forse devo ancora regolare due o tre cosette Però Not bad Non ricevere più di un minuto di penalità Nel prossimo rally Va bene capo Ricerca e sviluppo Eh Io Allora Dobbiamo stare di qua Sul team Il nome della scuola Mi si sa che si riposano più velocemente Forse il fatto che si riposano più velocemente Potrebbe essere utile Proprio perché Così li mando a riposare Quelli ci mettono meno tempo Potrebbe non essere Calendario Ah c'è il rally di Portogallo adesso I tizi sono mezzi stanchi Cioè mezzi stanchi In realtà stanno abbastanza bene Facciamoci il rally di Portogallo